Un'esperienza durata 20 giorni che lascerà il segno per i tre ragazzi della terza indirizzo amministrazione finanza e marketing dell'istituto Santa Caterina Mendola, impegnati in un progetto di 100 ore di scuola lavoro alla Jolly Group. Sicuramente una grande esperienza perché è qualcosa di molto importante che ogni giovane deve provare. Penso che purtroppo tra 20 giorni si torna nelle aule e un po' di malessere c'è, dire il vero. Progetti questi di una valenza enorme che completano la formazione dei ragazzi, come ci dice il docente di economia Mauro Cincione. Ovviamente vedere quello che si fa concretamente in ambito lavorativo rispetto a quello che è teoria in ambito scolastico ha una valenza fondamentale perché una cosa è imparare come funziona in questo caso un'agenzia, un'agenzia di viaggi dai libri, dal computer, una cosa e operare concretamente come stanno facendo questi ragazzi. Si tratta proprio di lavoro vero che fanno a titolo di pratica e ricordo che questa attività è obbligatoria ai fini della missione all'esame di Stato. La Jolly Animation Group è stata una delle prime a credere in questo tipo di progetti partendo tre anni fa. Oggi da spazio circa 450 ragazzi in tutta Italia e appunto a raddoppiare arrivando dagli 11 progetti in atto a 20.